Ma cos'è fondamentalmente il Natale? È una domanda che dobbiamo porci perché rischiamo di smarrirne il senso in un tempo in cui conosciamo questa festa sotto le fatue luci del consumismo, le fatue luci delle cose ottenute con facilità che soddisfano i capricci. Ma cos'è davvero il Natale? È sicuramente un momento dell'anno che al di là della fede o della non fede di ciascuno di noi si caratterizza per un momento speciale, è un momento in cui tutti respirano un'atmosfera diversa. Perché ci attrae? Perché continua ancora oggi questa manifestazione particolare di una realtà altra a sedurci quasi e ad attirarci verso quello che è il suo mistero, il suo segreto? Come possiamo andare a trovare le radici di questa festa? E ancora una volta non possiamo che partire dalla parola, è proprio la parola nella quale vogliamo radicare il nostro cammino. Eppure proprio per il Natale possiamo fare un'esperienza che precede quella dell'ascolto della parola. Innanzitutto noi siamo inseriti in un cosmo. Nelle tradizioni orientali vige il principio dell'armonia. L'uomo non può concepire se stesso se non in una perfetta armonia con tutto ciò che lo circonda. Ebbene questo fa parte anche del nostro patrimonio ma purtroppo lo abbiamo un po' dimenticato. Ebbene se guardiamo più in profondità il cosmo già il cosmo come i cieli, le stelle, le orbite ci annunciano un messaggio. Vogliono recarci una notizia. Come possiamo leggere questa notizia? Beh sicuramente recuperando il valore simbolico delle cose. Se ci facciamo caso il Natale cade in un momento particolarissimo dell'anno che è il sostizio d'inverno. Proprio il 21 dicembre inizia diciamo così ufficialmente la stagione invernale, la stagione più fredda, ma il sostizio d'inverno si caratterizza per un motivo particolare. È il tempo in cui il giorno si accorcia fino ad arrivare alla brevità minore che possa conoscere. Dal Natale in poi, dal sostizio d'inverno in poi, la luce comincia a prevalere sulle tenebre. E allora se abbiamo ancora qualche riminiscenza di quello che è il senso religioso del Natale, come mai una manifestazione di Dio così forte, così potente avviene nel cuore dell'inverno? Proprio nella porta dell'inverno, nel momento in cui c'è la tenebra che sembra trionfare sulla luce. E questa è una bella domanda, una bella domanda che ci costringe davvero a scavare, a recuperare il senso anche della nostra esistenza. Perché se dal simbolo andiamo alla realtà, possiamo subito notare come questa storia è segnata profondamente dalla tenebra del male, la tenebra dei nostri errori, la tenebra della sofferenza. Ebbene, se la luce è il simbolo di Dio, il Natale non è altro che l'incontro, l'abbraccio di questa luce nei confronti delle tenebre. Cosa ci dice già questo segno di per sé? Che Dio non ha paura di incontrare l'uomo nelle sue più fitte tenebre. Perché forse quello che potremmo cominciare a fare è sentire quel grido dentro, quella preghiera che da ogni cuore si innalza al cielo, che inizia con la parola perché, fino a quando. Proprio questo è ciò che caratterizza il cammino difficile dell'essere umano. Ogni uomo porta questa domanda dentro, vuole capire perché tanto male. Spesso gratuito, spesso verso vittime innocenti, soprattutto gli ultimi, i più deboli, i poveri, gli anziani, anche le pandemie, quando fanno le loro razzie non risparmiano nessuno e soprattutto coloro che divorano sono proprio i più fragili, i più deboli. Questo è un annuncio che subito comincia davvero a restituirci un senso di gioia. L'uomo non è abbandonato al suo destino. Questo grido che promana dalla sua carne in qualche modo misterioso viene accolto. Non è soltanto un grido destinato a perdersi, è un grido che proprio incontra lo sguardo amorevole di qualcun altro. L'uomo è fatto di sguardo e quando si sente veramente guardato dentro di sé, può trovare, riscoprire il senso del suo camminare. E quindi il male, la natura, il cosmo sono tutti elementi che già ci annunciano il Natale. Ma ecco, l'uomo non si accontenta, l'uomo ha bisogno di più, l'uomo ha un'anima, l'uomo oltre ai sentimenti, oltre alla ragione, ha anche l'intuito, ha anche la percezione di un qualcosa che supera tutto ciò che cade sotto i suoi sensi e sotto la ragione. E allora è qui che accetta la sfida di radicarsi in una parola. Radicati nella parola. E questo è il senso di questo momento. È proprio qui che nel Vangelo Dio si fa vicino all'uomo. E il Natale è il momento in cui Dio, più di ogni altro momento della storia, si fa vicino all'uomo. Perché se già la parola è un suo modo di comunicarsi all'uomo e di rendersi più comprensibile, immaginiamo quando, dopo aver ascoltato queste parole umane che rimandano alla realtà divina, addirittura troviamo un Dio sotto l'aspetto di un uomo. Ma che dico di un uomo? Di un bambino, di un infante. In greco infante significa senza parola. La parola di Dio in qualche modo si fa, muta. Perché è un abbassarsi, è uno svuotarsi di se stesso per accogliere al suo interno, come il grembo di una madre, l'umanità ferita. L'umanità che per qualche mistero insondabile si è allontanata da quella fonte inesauribile di gioia e di amore. E qui i Vangeli ci annunciano, ad esempio in Giovanni, che questa luce che attraverso il bambino arriva proprio in soccorso all'umanità, entra in un palcoscenico che è la storia dove si svolge un dramma. Lo scontro di questa luce con le tenebre che l'attaccano, che non l'accettano. E queste tenebre sono anche dentro di noi. Quale uomo non conosce dentro di sé questa battaglia tra se stesso e Dio, tra le proprie idee e la verità, tra il proprio sentire e questa chiamata a una donazione totale. Quante volte ci siamo scontrati con questo muro che è il nostro io. Ed ecco il Natale viene proprio a richiamarci a questa semplicità, a questa povertà di una notte pronta ad accogliere quel seme capace di rinnovare la faccia della terra. E quel seme ha il volto di un bambino. Matteo nel suo Vangelo, proprio all'inizio, ci parla libro della Genesi di Gesù Cristo. È il libro della nascita di un bambino che al contempo uomo è Dio. Ma in quel bambino vi sarà racchiuso il destino dell'uomo. In quella nascita vi è nascosta anche la nostra nascita. Ed è sorprendente come Matteo lega questa Genesi di Gesù Cristo con tutta una genealogia che affonda in Abramo la sua radice. Ci sono tre serie di quattordici generazioni attraverso cui passa una carne che verrà tutta presa da Cristo. Abbiamo in Abramo il capostipite a cui è stata data la promessa e dopo di lui sappiamo anche a Davide e abbiamo in Gesù Cristo il compimento di quella promessa. Se andiamo a leggere quella che a volte ci sembra quasi un'inutile elencazione di nomi, di relazioni, possiamo invece scoprire dei significati veramente importantissimi. Di Abramo viene subito detto chi genera, di ogni patriarca chi viene dopo di lui. Quindi ognuno è generato e al contempo genera. Ovvero ognuno di noi prima è figlio e poi è padre. E già qui c'è un messaggio. Non puoi mai essere padre di nessuno se prima non prendi consapevolezza del tuo essere figlio. Ebbene in questa catena ci accorgiamo che l'unico a non essere generato è Abramo mentre lui genera. Così come vediamo che dopo Gesù nessuno genererà. Non c'è Gesù non genera nessuno. Questo cosa ci dice? Che c'è qualcosa di misterioso che ha a che fare con Dio prima di Abramo e dopo Gesù Cristo. Non si tratta più di una generazione umana ma di una generazione completamente divina. Ecco perché se possiamo così dire dopo Gesù si può soltanto rinascere nello spirito. Abbiamo una carne abitata da uno spirito di novità, da uno spirito di bontà e di amore che appunto viene a rinnovarci. Un altro particolare in questa genealogia lo troviamo in due elementi, in due menzioni. Ci sono dei fratelli e oltre a questi fratelli viene anche citato l'esilio di Babilonia. Cosa ci dice questo particolare? Che l'umanità che viene a incontrare, anzi che viene a prendere Gesù è un'umanità segnata da una fraternità in esilio, dispersa, smarrita. Cioè ci dice che la prima ferita che l'uomo vive nella sua vita è la ferita delle sue relazioni e per di più quelle fraterne. proprio questo messaggio ci può far comprendere come mai oggi il nostro Papa scrive un'enciclica intitolandola Fratelli Tutti, ispirandosi a San Francesco che possiamo chiamare come il fondatore di una fraternità universale che appunto non si imbasa più soltanto sui legami di sangue ma sul condividere, sul credere insieme su quei valori di giustizia, di pace, di vera fraternità umana che soli possono gettare i ponti verso un futuro di un'umanità piena e realizzata. Questo sposalizio che viene a fare Gesù però conosce un'esperienza che non dobbiamo mai dimenticare. Gesù prende la nostra carne e questo ci riempie di gioia. Finalmente la nostra esistenza non è più abbandonata a se stessa. Sappiamo che tutta la carne sussume Gesù su di sé. Significa che non lascia niente fuori della nostra vita. Non c'è dimensione della nostra vita che non possa essere raggiunta da questa luce di Gesù. Nessun dolore, nessuna parte nascosta di noi può rimanere al di fuori di questa salvezza che ci viene a portare. Ma c'è di più perché per poter nascere Gesù nella nostra carne deve morire qualcosa di noi. Ecco che qui scopriamo il mistero del Natale intrinsecamente legato al mistero pasquale. Anzi, è proprio dal mistero pasquale che il mistero Natale trova la sua vera luce. Proprio lì capiamo che la gioia è per l'uomo. Ma se ci mettiamo nei panni di Dio, Dio non sta facendo altro che abbassarsi per venire incontro all'uomo. E per poter noi a nostra volta trovare la nostra piena realizzazione, la nostra vera felicità, non possiamo che compiere lo stesso cammino che Gesù ci ha indicato. Un cammino di svuotamento, un cammino di morte quotidiana. Ecco che l'annuncio di gioia si tramuta subito in un compito. Chiediamo veramente a questo bambino che possa essere accolto nella nostra vita sia nei suoi meandri più colpiti, più feriti, più abbandonati, ma anche in quegli slanci di vera vita nello spirito che il Signore ci ha donato grazie alla sua venuta sulla terra. Pace e gioia! Grazie a tutti!